Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e anche questa settimana nuovo video a tema Harry Potter e si tratta dei nuovi Wizzies dell'SLunga, della collezione completa che è contenuta all'interno di questa scatola e naturalmente per questa collezione ho un po' di persone da ringraziare ma prima di cominciare vi ricordo che utilizzando il codice SETTEPOTTER su Pampling potrete avere il 20% di sconto su tutti i vostri acquisti presenti e futuri da qui all'eternità questa maglietta l'ho presa su Pampling naturalmente così come tante altre e di tanti altri fandom trovate tutti i link sotto in info box detto questo torniamo ai nostri Wizzies ragazzi molti di voi ricorderanno che l'anno scorso o due anni fa, non ricordo neanche quanto tempo sia passato una di voi, Aurora e sua sorella, mi hanno inviato un pacco a sorpresa e all'interno ho trovato questa qui che è l'intera collezione della prima serie dei Wizzies dell'SLunga perché me l'hanno inviata, sono state carinissime, mi hanno sorpreso e commosso tantissimo perché in Sicilia non c'è l'SLunga, al sud in generale credo che non ci sia l'SLunga e quindi per noi è un po' complicato, un po' difficile riuscire a reperirli loro sono state carinissime, mi hanno confezionato ogni Wizzies all'interno della sua bustina e poi mi hanno permesso naturalmente di completare l'intera collezione io la tengo come una reliquia nella mia libreria e non finirò mai di ringraziarle circa un mese, un mese e mezzo fa, ecco che S.Lunga avvia la nuova campagna di Wizzies la seconda serie di Wizzies dedicata agli animali fantastici sono passato prima da una fase di piena disperazione perché, ok, non li avrò mai era l'unico pensiero fisso in testa successivamente ho cominciato a chiedere su Instagram, a chiedere anche nei gruppi se qualcuno fosse disposto a venderla fin quando prima mi contatta un mio amico Matteo che mi segue qui su YouTube e Matteo si era offerto di regalarmi tutti i suoi doppi stava già cominciando una seconda collezione per me e io lo ringrazio infinitamente e successivamente ecco che mi ricontatta Aurora su Facebook che mi fa sapere che ha già provveduto e le serviva solamente l'indirizzo per potermela spedire io devo ringraziare tantissimo sia Matteo che Aurora perché davvero siete stati gentilissimi, carinissimi io assolutamente non merito tutto questo e vi ringrazio davvero tantissimo e ecco che quindi Aurora è arrivata per prima e è riuscita ad inviarmi il pacco io ragazzi non vedo l'ora di aprirlo sono super super contento anche perché quest'anno la confezione sembra essere ancora più bella perché è a forma di valigetta di Noob Scamander quindi andiamo subito a tagliare lo scotch e vediamo come è stata realizzata questa seconda serie di Wizis bene eccoci qui tanta tantissima carta mi ricorda tantissimo il primo pacco quindi il metodo di imballaggio di Aurora non è cambiato di una virgola e devo dire che è perfetto tutto imballato super 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 bene wow mi ha anche messo il volantino dell'S lunga grandissima Aurora grandissima sa che sono pazzo quindi mi ha anche incluso il volantino dal 3 ottobre al 13 novembre la magia continua colleziona i nuovi Wizis quindi eccoli qui troviamo Harry e Newt Scamander e poi il volantino con le offerte che probabilmente mi andrò a spucciare ecco qui la pubblicità con tutti i Wizis gli animali che in questo caso sono anche floccati e la valigetta con la bacchetta di Harry inclusa che proietta delle piccole immagini sul muro la valigetta aveva un costo di 2,90 euro e poi i Wizis venivano regalati o con 50 punti fragola o ogni 25 euro di spesa erano delle blind bag e quindi ragazzi tantissimi dopioni ovviamente ma detto questo direi di cominciare subito a distruggere questo flurible questa carta e ecco qui la valigetta davvero molto molto bella eccola qui anche in questo caso realizzata in cartone abbiamo anche la maniglia qui davvero molto molto elaborata molto carina e adesso apriamola con i due sigilli in velcro e poi ecco qui non vorrei romperla quindi devo capire come fare ad aprirla ok ci siamo è già partito uno degli animaletti ed eccola qui ecco qui i nuovi Wizis che sono davvero tantissimi la parte bassa dedicata ad animali fantastici e anche quasi del tutto la parte superiore e abbiamo nuovamente Harry, Ron, Hermione, Silente, Piton e Dobby che se non sbaglio erano presenti anche nella prima serie ma credo siano leggermente differenti tiriamo fuori la bacchettina di Harry e andiamo a togliere anche la linguetta di protezione della batteria e vediamo che il fondo e anche la parte superiore si illuminano con una lampadina perché sono presenti dei piccoli tondelli di plastica in questo caso abbiamo uno snaso che vanno inseriti nella base della bacchetta e una volta cliccato qui il tasto ecco che dovrebbero andare a riprodurre la sagoma dello snaso su una parete poi abbiamo anche il testral abbiamo il gufo e l'ippogrifo quindi 4 di questi tappetti di plastica da inserire sul fondo della bacchetta devo dire che è un extra molto molto carino che la prima volta non c'era e quindi tanto apprezzato e devo dire che S.Lunga mette davvero tantissima tantissima cura nel realizzare queste raccolte perché sono davvero fatte molto molto bene e mi stupisce il fatto che siano comunque totalmente gratuite se non per la spesa della confezione adesso andiamo a vedere nel dettaglio tutti i nuovi Wizis e poi traiamo le nostre conclusioni cominciamo dalla parte superiore della valigetta e abbiamo i primi Wizis dedicati ad Harry Potter con Harry, Ron, Hermione, Silente, Piton e Dobby credo che l'unico differente sia Dobby gli altri più o meno somigliano tantissimo a quelli della prima edizione poi troviamo gli animali e partiamo con Grattastinky in versione floccata molto molto carino troviamo anche Edwige sempre floccato Fanny che invece non è floccata è semplice ma comunque fatta molto molto bene mi piace nonostante sia davvero molto piccolina poi troviamo l'Ippogrifo che devo dire che è molto molto bello guardate completamente floccato mi piace tantissimo abbiamo questo Voldemort che richiama il Pop di Pop in a Box quello in esclusiva con Nagini avvolta attorno a lui e poi il Testral anche questo guardate è molto molto bello e ben realizzato questo non è floccato ma direi che ci sta tutto e adesso passiamo alla parte inferiore della valigetta dove troviamo i nuovi personaggi Grindevald poi troviamo Jacob, Tina, Queenie tutti realizzati molto molto bene mi piacciono tantissimo e poi abbiamo qui lo Zoo sempre floccato guardate quanto è carino con la coda rosa così come doveva essere anche il Pop e invece non è stato fatto poi ecco che abbiamo anche lo Snaso floccato che tiene le monete nel taschino e poi Nute abbiamo Credence abbiamo Nagini in questo caso la parte inferiore è serpentesca diciamo così ed è anche di questo verde satinato molto molto carino troviamo anche Albus Silente l'asticello realizzato in questo materiale trasparente e poi abbiamo anche il Kelpie che in questo caso è floccato come vi dicevo la bacchetta e poi abbiamo i tondelli in questo caso vediamo che c'è il Gufo qui abbiamo il Testral da questa parte abbiamo invece lo Snaso e anche Fierobecco l'Ippogrifo in bolo quindi adesso direi di poter riporre la valigetta e trarre le nostre conclusioni bene carrellata di Wizis finita e ragazzi devo dire che questa seconda serie mi è piaciuta tantissimo soprattutto perché ho un debole per gli animali fantastici non posso farci niente mi piacciono i personaggi ma per gli animali ho assolutamente un debole e i miei preferiti di questa serie sono assolutamente Fierobecco e il Testral che sono davvero fatti molto molto bene io ringrazio ancora tantissimo Aurora e anche Matteo per avermi inviato questa bellissima collezione di Wizis che altrimenti non avrei mai potuto avere nella mia collezione io mi auguro che S.Lunga continui con queste raccolte dedicate a Harry Potter perché sono davvero molto molto belle e ragazzi naturalmente fatemi sapere voi nei commenti se avete finito la vostra collezione di Wizis se l'avete recuperata voi ragazzi del Sud fatemi sapere come avete fatto per reperirla quanto magari l'avete pagata visto che girano prezzi anche molto alti su Ebay ma io direi se voleste un mio consiglio di spendere non più di 30-35€ per la collezione completa perché naturalmente ci sono persone che vogliono approfittarsene e la vendono anche a 50-70-100€ ma direi che 30-35€ è un prezzo più che onesto detto questo ragazzi fate come vi pare naturalmente e ovviamente non mi resta che come al solito consigliarvi di lasciare un mi piace commentare, condividere il video con i vostri amici iscrivetevi quando non foste ancora iscritti tutti i piccoli gesti che vi possono davvero dare una grande mano seguirmi su Instagram Antonio.seria e naturalmente cliccare forse natamente sul link della mia vetrina Amazon dove trovate un negozio totalmente nerd realizzato da me in collaborazione con Amazon per ogni acquisto effettuato tramite la mia vetrina ragazzi io riceverò una piccolissima commissione da parte di Amazon che però mi può aiutare a migliorare il canale e a portare sempre novità e recensioni aggiornate detto questo ragazzi io vi saluto e vi do appuntamento prestissimo con tante altre novità ciao!